Parliamo adesso dei trattati di Seneca. I trattati sono tre e sono De Clemencia, De Beneficis e Le Naturales Questiones. La loro struttura è molto simile a quella dei dialogi perché anche qui abbiamo l'autore che parla in prima persona e che si rivolge ad un destinatario vero o fittizio con cui dialoga alla maniera storico-cinica, come abbiamo visto già nei dialogi. Allora, vediamo per esempio il trattato De Clemencia. Il trattato De Clemencia è destinato a Nerone che, come sapete, era stato discepolo di Seneca e che, una volta divenuto imperatore, nel 54, nei primi cinque anni, nel Quinquennium Neronis, si faceva guidare dal filosofo Seneca. Infatti quest'opera è proprio di quel periodo, siamo intorno al 55-56 d.C. e appunto Seneca si rivolge a Nerone con lo scopo di preparare il giovane imperatore a diventare un buon sovrano. Cioè il sogno che poi si rivela un'utopia e una falsa speranza da parte di Seneca, il quale, come sapete, quando si rende conto che non riesce più a controllare Nerone, preferisce ritirarsi a vita privata, ecco, il sogno di Seneca era quello di fare di Nerone un monarca illuminato. E allora, proprio per questo motivo, quali sono le argomentazioni di questo trattato? Intanto che la monarchia è la migliore forma di governo e in questo Seneca si dimostra filosofo stoico perché era proprio lo stoicismo ad indicare la monarchia come migliore forma di governo. E tra l'altro Seneca sta, diciamo, riconoscendo che il principato, quello che veniva chiamato principato, era in realtà una monarchia. E allora, se la monarchia è la migliore forma di governo, bisogna che venga esercitata da un sovrano ideale. Un sovrano ideale che, appunto, Seneca spera sia Nerone e che deve possedere come virtù fondamentale non tanto la giustizia, come sosteneva Cicerone, ma la clemenzia. Cioè la clemenza. Il re deve essere essenzialmente buono e clemente nei confronti dei suoi sudditi e deve estaurare con i suoi sudditi un rapporto paterno. Cioè, ecco, deve punire proprio quando è costretto e lo deve fare a scopo educativo. In caso contrario, ecco, è meglio, secondo Seneca, che il sovrano si dimostri clemente, insomma, perdoni le colpe dei suoi sudditi. Ecco, sappiamo, ripeto, che Nerone fece orecchie da mercante e si dimostrò l'esatto contrario di questo ritratto ideale che aveva realizzato, aveva, diciamo, sperato Seneca. Andiamo al De Beneficis. È un trattato in sette libri il cui destinatario è l'amico Ebuzio Liberale. In questo caso Seneca ci vuol far capire l'importanza dei benefici, cioè dei favori reciproci che gli amici si scambiano tra di loro. Insomma, secondo Seneca non è inutile, ecco, fare un favore, aiutare un amico o qualcuno in difficoltà. Perché, ecco, questa è una delle virtù del filosofo, anche se non viene contraccambiata con la gratitudine. Seneca comunque si dimostra fiducioso anche per quanto riguarda la gratitudine, però anche se qualora, ecco, non ci fosse nei confronti dell'aiuto ricevuto un atteggiamento di gratitudine, Seneca sostiene che comunque è importante aiutare l'amico in difficoltà e riporta esempi di aiuto reciproco e di gratitudine. Andiamo alle Naturales Questiones, un trattato destinato all'amico e discepolo Lucilio, lo stesso destinatario del capolavoro di Seneca Le Epistule ad Lucilium, e ha anch'esso un trattato in sette libri. Lo scopo delle Naturales Questiones è liberare gli uomini dai timori dei fenomeni naturali. In questo caso Seneca, da filosofo, si mostra anche interessato alla scienza e del resto la scienza veniva considerata una branca della filosofia. Il suo scopo è quello stesso di Lucrezio nel Dererum Natura, insomma, liberare gli uomini dalle paure riguardo ai fenomeni naturali, anche perché i fenomeni naturali si realizzano per cause ed effetti fisici e non certo per volontà degli dèi. E quindi è inutile averne paura. In questo trattato Seneca elogia la scienza come sapere fondamentale insieme alla filosofia e mostra grande fiducia nel progresso scientifico. Progresso scientifico che Seneca immagina porterà l'uomo a scoprire verità ai suoi giorni ancora sconosciute. E in questo in effetti aveva ragione. Vediamo ora l'epistole Morales ad Lucilium che è ritenuto il vero capolavoro di Seneca. Comunque la sua testimonianza intellettuale e morale lasciata al suo amico e discepolo Lucilio nonché ai posteri. Allora quest'opera venne composta negli anni del ritiro dalla politica, quindi dalla 62 al 65 d.C. Come abbiamo detto il destinatario è il discepolo e amico Lucilio a cui già Seneca aveva indirizzato le naturales questiones e il dialogo de providencia. Allora il destinatario è il lucilio anche se sicuramente lo stesso Seneca immaginava di indirizzare la sua opera ai posteri. Lo scopo di quest'opera è guidare Lucilio verso il raggiungimento della saggezza stoica, quindi indirizzare il suo discepolo al raggiungimento della virtù stoica. Allora siamo di fronte a un epistolario letterario, cioè l'opera è formata da 124 lettere distribuite in 20 libri, quindi sono lettere scritte per essere pubblicate. Quindi siamo di fronte al primo epistolario letterario della letteratura latina perché, come sappiamo, quello di Cicerone, l'epistolario di Cicerone è un epistolario privato. Quindi siamo di fronte al primo epistolario letterario che però non è, attenzione, non è fatto, non è composto da lettere fittizie. Perché comunque Seneca scrive queste lettere con l'intento di indirizzarle all'ucilio e tutto quello che scrive, compresi anche gli episodi di vita quotidiana occorsi a lui e al suo discepolo, non sono fittizi ma sono reali. Quindi questi episodi, questi spunti tratti dalla vita quotidiana vengono utilizzati in funzione morale perché naturalmente siamo di fronte a un'opera di filosofia morale. Nell'opera abbiamo un tono informale e colloquiale. Abbiamo il solito tono di Seneca, la solita impostazione diatribica, con cui Seneca, parlando in prima persona, si rivolge al suo interlocutore, rispondendo anche a dubbi, domande che immagina l'ucilio possa fargli. La trattazione inoltre ha un carattere asistematico, cioè le tematiche trattate non sono sistemate in un ordine, ma sono in ordine sparso, come avviene nei collopi informali e privati, cioè così come vengono in mente, così come porta la discussione. Dobbiamo dire che l'opera ha una struttura bipartita, una struttura bipartita proprio sui progressi di Lucilio, perché diciamo che Seneca sistema l'esposizione in base ai bisogni, alle esigenze e ai progressi del suo discepolo. Quindi nella prima parte l'insegnamento è più semplice e Seneca spesso ricorre alla parenesi, cioè all'incoraggiamento, come si fa nei confronti dei principianti e ricorre più spesso, fa riferimento più spesso a situazioni quotidiane, perché gli servono queste situazioni quotidiane come esempi per spiegare certe sue teorie, certe sue tesi di filosofia morale. Nella seconda parte invece, quando Seneca si rende conto che il suo discepolo sta progredendo nell'apprendimento, l'insegnamento diventa più impegnativo e Seneca tratta in maniera più estesa e più elaborata le tematiche. Quali sono queste tematiche? Allora, innanzitutto l'esortazione all'Ozium e al Secessus, perché già nella parenesi, cioè già nella prima parte, laddove c'è l'incoraggiamento all'ucilio a intraprendere la via della filosofia, ecco, Seneca fa capire al suo discepolo che la condizione sine qua non per essere un buon filosofo è quello di lasciare la politica e dedicarsi all'Ozium, quindi praticare il Secessus, cioè il ritiro dalla vita pubblica, anche perché l'ucilio in quel periodo aveva degli incarichi pubblici in Sicilia. Quindi, ecco, la prima cosa che Seneca dice al suo discepolo è quella di lasciare la politica e di dedicarsi all'Ozium. Del resto, ecco, lui stesso si pente per non aver fatto questa scelta prima, perché Seneca è un uomo che, seppur a tarda età e perché è costretto dalle circostanze, ha compreso il valore dell'Ozium, perché Seneca ha fatto questa scelta, ha preso questa decisione, ormai anziano, ormai sessantenne, e perché è costretto dalle circostanze, perché aveva ormai capito che Nerone era ingestibile. E proprio per questo Seneca si rammarica di non aver invece preso questa scelta molto tempo prima, e si rammarica quindi di aver sprecato il suo tempo nella politica. Proprio per questo non vuole che il suo discepolo faccia lo stesso suo errore. Un'altra tematica è proprio la saggezza, in che cosa consiste questa saggezza, che poi consiste nella pratica della virtù. E l'autarchia, l'autonomia di pensiero e l'imperturbabilità del filosofo. Non solo, ma autonomia di pensiero significa anche che Seneca, sebbene esponga al suo discepolo la filosofia stoica, sia abbastanza libero nel fare riferimento anche ad altre filosofie. Per esempio, quando sottolinea la necessità dell'Ozium, fa riferimento ad Epicuro, e quindi all'epicureismo. Epicuro è il quale sosteneva che il negozium era nocivo alla felicità, alla serenità dell'animo, e che bisognava praticare l'Ozium. E poi c'è una meditazione sul tempo, quindi sul tempo che passa, sul tempo che fugge, sulla brevità della vita, e sulla morte che si avvicina. Perché Seneca è un uomo ormai senex, ormai anziano, che ormai si rende conto che gran parte della sua vita l'ha vissuta, e quindi ha tutto alle spalle, e medita su quello che ha fatto di buono e sul tempo sprecato. E riflette anche sulla morte, pensando che la morte gli sia vicina. E sostiene che il vero filosofo non ha paura della morte, anche perché la morte è una cosa naturale, e quindi non bisogna averne paura, né cercare di esorcizzarla, perché tra l'altro la morte non porta dolore, perché due sono le alternative. O con la morte si passa ad una vita migliore, oppure non si esiste più, non c'è il nulla. Però in tutti e due i casi non si soffre, e quindi non si deve temere la morte. Per quanto riguarda lo stile, lo stile di Seneca, come abbiamo detto, è improntato al tono colloquiale, e caratterizzato da sentenze. Spesso si trovano nell'esposizione di Seneca le sentenze, che sono brevi frasi che esprimono nella loro concisione, prignanza, verità fondamentali. Per cui spesso Seneca si serve di una sentenza per due scopi. Intanto esprimere in maniera concisa, quindi sintetizzare il suo pensiero, sintetizzare il suo pensiero in una sentenza che per la sua brevità rimane impressa, e quindi non solo sintetizzare il suo pensiero, ma renderlo più efficace e comprensibile. Vediamo due di queste sentenze, però ce ne sono tantissime. Per esempio, Seneca dice, Desines timere, si sperare desieris. Smetterai di temere se avrai smesso di sperare. E questa è una triste verità. E poi un'altra sentenza, in Pares nasci muro, Pares morimur, nasciamo diversi ma moriamo uguali. Insomma, la famosa livella di Totò. Va bene, per il momento abbiamo finito.